Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla strada statale 145 Sorrentina fino al 15 settembre nella fascia oraria 22.6, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo il senso unico alternato in località Seiano. Sulla tangenziale di Salerno fino agli ore 18 del 15 settembre, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli via Irno e Fratte in direzione Fratte. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.